Ciao a tutti ragazzi ed eccoci in questo primissimo video Sono PeppeGio2 e siamo in questo nuovissimo video del mio nuovissimo canale Bella intro ragazzi Allora ragazzi Come primo video farò un po' di cazzeggio così online E il video diciamo che durerà più o meno 5 minuti 5 minuti 5, cavolo sto dicendo volevo dire 15 minuti E raga Direi di cominciare con questo video Speriamo che vi sia piaciuto la intro Che l'ho scadetata da un'applicazione stessa dalla Playstation 4 E raga questo primissimo video diciamo che è un video di prova Ok Incominciamo questo primissimo video Che ci ho messo tra i milagri solo per farlo Come mai ti resta Perchè Perchè non sapevo come cavolo si faceva Vedate che cosa A consentire l'audio Ha 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 Che battuta di merda raga Allora ragazzi Adesso Che devo dire Vediamo un poco Dove si trova Fixed tiger Ah Ah Noi mammovi Ecco fix tiger Fixed tiger Oh mio amico E adesso raga Raga Allora Se dovete guardare questo video Io le cuffie non le tengo abbastanza date Quindi alzate e alzate E alzate il volume Anche al 100% Si sentirà Ancora un po' basso Per raga Più in là Comprerò Le cuffie adatte Per fare questi videoclip di 15 minuti Allora raga Com'è il intro Del mio canale Devo dirvi delle cose Allora Ogni video si svolgerà L'ho già detto Di 15 minuti E l'ho detto Una Centinaia di volte Credo di si Battute squalide raga Battute squalide Allora ragazzi Quindi Questo video si svolgerà In 15 minuti Ogni video Veramente E I video non saranno Solo su GTA 5 Online O sulla storia Ma saranno anche Tengo Diciamo Quei giochi per ora GTA 5 appunto Poi Infamous Second Song Potremmo Diciamo Infamous Fast Light Poi C'ho Minecraft E poi Anche Potremmo fare Walks Rudy Assassin's Creed Rudy Poi Ragazzi Adesso Andremo a rapirare Questo Bar Allora Non vuoi i cappelli Le maschere Andano bene Guardate Quest'alba Con Forza Darvi i soldi Vabbè Vi prendo da solo Non ti preoccupare Vai Prendiamo 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 Via 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 Allora Non vi è dato tutti i soldi Non so Perché se noi spariamo Qui vi dà altri soldi I soldi Le di Bird E noi Ci facciamo I Big Money Ragazzi Questo video Solo Durerà Meno Di 15 Minuti E Un video Intro Ve lo Dico Poi Ragazzi Sì Come Ogni Video Lasciate Un mi piace E Scrivete Anche Se Vi piacciono I miei video I miei canali Il mio canale E Sarà Un canale Ve lo dico Molto attivo Poi Comprerò Anche La webcam E ci vedremo Faccia A Faccia Allora Ragazzi Secondo me Devo arrivare Fino Dove Devo Arrivare Ci metterò Un bel Quello Tate Tre Con E Tengo Bei Big Model Bei Big Model Che è Fixed Tiger Di livello 5 Ma è possibile Di livello 3 Di livello 5 Un bug Di vesto Allora Ragazzoli Ragazzoli Poi Vi dico Se la intro La volete Un po' più lunga O con qualche Che altra Immagino Qualche altra cosa C'è la intro Poco iniziale Che vedete Nei primi Secondi Voi la Potete dire E Dite per esempio Metti Una intro Più bella Della ps4 Di GTA Qualcosa Per il tale Di GTA Per iniziare Che scherbata Io la metterò Allora Potremmo vedere La spazzatura Ah Non slittare Va bene Raga Per questo Primissimo video Di intro È tutto E Fra Una mezz'oretta Farò Un altro video Mi raccomando Guardatelo Farò Un video Di Un deathmatch Se Non si rascora Iscritti Iscrivetevi Lasciate un commento Un mi piace E Condividete anche Il video Dove volete Vi E Bella ragazzi